E ragazzi, nelle ultime ore ho affrontato particolarmente questo argomento, dato che mi aveva messo quella pulce nell'orecchio Sickwolf con quel video che abbiamo fatto insieme, e dato che ritengo una priorità non da quest'anno ma dall'anno scorso, l'acquisto da parte della Juventus, di un difensore centrale di piede mancino, o comunque a suo agio, che possa giocare anche sul centro-sinistra, nel difesa 3 o nella difesa 4, oggi ho voluto raccogliere un po' di idee, ho pubblicato su Twitter, ho pubblicato su Instagram, ho chiesto il vostro aiuto, qualcuno mi ha tirato fuori qualche nome interessante, qualcuno ha confermato qualche nome che avevo anche pensato io facendo qualche ricerca, ma soprattutto sono nati degli ottimi spunti di riflessione per cercare di creare una sorta di guida. Attenzione, a differenza di chi compra Juve, te lo dico io, in cui vi andavo a fare dei nomi che effettivamente sono stati fatti da parte di esperti di mercato o indiscrezioni di mercato per quanto riguardava la Juve in più reparti, si parla troppo poco di un centrale difensivo e a maggior ragione di un centrale difensivo di piede sinistro nelle ultime ore per quanto riguarda la Juve, quindi non significa che la Juventus stia monitorando questi giocatori, però sono anche abbastanza convinto che sia necessario cercare di farsi un'idea su quelli che sono i nomi che circolano e magari dei giocatori che possono arrivare alla Juve in questa sessione di mercato, quindi un esborso economico non troppo elevato o comunque che possono essere interessati ad un'avventura alla Juventus che non prevede l'accesso alla Champions League, bensì alla Conference League, perché sappiamo che la Juve è qualificato per questo. Quindi, idee per la Juventus, delle idee per gli acquisti di quelli che sono alcuni dei profili più interessanti di difensori centrali, mancini o che possono giocare a sinistra, ma non solo, anche giocatori che purtroppo non possiamo più acquistare. Perché? Perché intanto andremo a vedere nelle prossime schermate che ci sono due nomi di giocatori che ormai uno è andato ufficialmente e l'altro quasi. Ma per iniziare, 3-5-2. Perché? Prima motivazione, continuità di rendimento. Perché l'anno scorso la Juventus si è trovata a suo agio col 3-5-2, o comunque con la difesa 3 in particolar modo col 3-5-2, perché alcuni giocatori chiave come Kostic e come Bremer hanno dimostrato di sentirsi più a loro agio in quella posizione per l'assenza di terzini di ruolo. E infatti gli unici due, tra virgolette, terzini insieme a Quadrado e De Sciglio che aveva la Juventus l'anno scorso, Alessandro, che vediamo qui in figura, e Danilo, si sono trasformati da terzini a braccetti, quindi giocatori che vanno a fare i terzi di difesa. Poi secondo me possono comunque disputare alcune partite durante il campionato come terzini, ma non hanno più quella spinta, o comunque quella spinta che richiede oggi il terzino. Quindi si trovano molto più a loro agio come giocatori più di copertura. Per la costruzione della Rosa, perché comunque la Juventus si è ritrovata ad avere sei centrali difensivi adattando Alessandro e Danilo, che sono Alessandro, Danilo, Bremer, Gatti, Bonucci e Rugani. Quindi pensare a sei, se non sette, magari centrali con dei giocatori aggregati, magari dall'Under-23, dalla Next Gen, o magari direttamente dalla Primavera, potrebbe essere una buona idea. Poi non dimentichiamoci mai che Allegri non ha riferimenti dal punto di vista dei moduli, solitamente cambia anche in base agli avversari o in base ai giocatori che ha a disposizione e agli avversari che deve marcare, e quindi non sarà una regola scritta, però come indicazione secondo me il 3-5-2 sarà il modulo che vedremo più spesso schierato nella prossima stagione. Dicevo, alcuni giocatori che non potremo più acquistare, indica uno di questi, perché? Classe 99, Ivoriano con passaporto francese, centrale Mancino, si era liberato, era un parametro zero, che giocava nel Francoforte, con cui ha vinto l'Europa League insieme a Kostic nel 3-4-2-1, infatti giocava proprio dietro Kostic, si conoscevano bene, era un giocatore giovane, un giocatore con la sua esperienza internazionale, un giocatore che non costava tantissimo, però se l'è preso la Roma e quindi non possiamo fare altro che fare i complimenti alla Roma per questo acquisto. E vi giro la domanda, sarebbe stata una buona occasione per la Juve? Ci sono nomi migliori? Vi dico che ce n'è uno su tutti che mi fa impazzire, c'è un giocatore su tutti in questo elenco che andrei a prendere immediatamente, perché mi dà delle vibes incredibili, quando l'ho visto giocare non mi era dispiaciuto. Pau Torres, se indica è un giocatore ufficialmente già alla Roma, Pau Torres è un giocatore ufficiosamente dell'Aston Villa, direzione Premier League, classe 1997, spagnolo, gioca nel Villareal, è un difensore centrale Mancino, ha esperienza internazionale, lo ricorderete bene perché l'anno scorso ha giocato contro di noi in Champions League, ci ha pure segnato, è stato il giocatore che ha un po' spezzato i sogni della Juventus di accedere ai quarti di finale, è arrivato fino alla semifinale proprio con il Villareal, ha una scadenza di contratto nel 2024, però come vi dicevo molto probabilmente l'anno prossimo giocherà in Premier League, ha una valutazione di mercato di 45 milioni di euro secondo Transfer Market, vedremo a quanto andrà via, vedremo a quanto andrà in Premier League, ma sembra un giocatore che la Juventus in questo momento non può permettersi né per ambizione, quindi l'accesso alla Champions o alla Premier League, né per costi perché 45 milioni di euro senza un'accessione eccellente, la Juventus in difesa non li andrà a tirare fuori. Calulu, ecco, questo è l'unico nome che si è fatto nelle ultime ore, ed è anche il nome che ho detto a Seacolf, però gli dicevo guarda non mi convince tantissimo, è un classe 2000, è un giocatore francese in forza al Milan, lo conosciamo molto bene perché milita nel campionato italiano, è stato campione d'Italia con il Milan, è un difensore centrale di piede però destro, può giocare anche da terzino, sia a destra che a sinistra, questo non fa importanza, ha un contratto in scadenza nel 2027, e i rossoneri in questo momento non hanno assolutamente necessità di cederlo, secondo Transfer Market ha una valutazione di 30 milioni di euro, ma secondo me il Milan potrebbe chiedere anche qualcosina di più, perché è un giocatore secondo me che può diventare anche appetibile per i campionati esteri, ecco, questi sono secondo me gli acquisti che deve fare una squadra come la Juventus in questo momento storico, il Milan lo va a prendere, scommette su di lui, lo valorizza, e adesso può richiedere sicuramente un bel bottino, se arriva puoi cederlo come no, perché tu puoi decidere di andare avanti, se no magari se una squadra in particolare si è innamorata di quel giocatore, come è stato il Newcastle Pertonali, ecco che l'offerta può essere ancora più grande, il Milan può incassare questi soldi e ricominciare da capo andando a cercare un nuovo profilo, questi sono i colpi secondo me che anche la Juventus d'ora in avanti deve iniziare a fare, se vuole uscire un po' dal loop nel quale si era andata ad infilare negli ultimi anni. Scalvini, Scalvini è un nome che è circolato tantissimo in precedenza, nei mesi scorsi, perché è un classe 2003, è italiano, è titolare nell'Atalanta, è un difensore centrale di piede destro, ma gioca a sinistra nella difesa tra Bergamasca, ha un contratto in scadenza nel 2027, però non ha esperienza internazionale, perché con l'Atalanta non ha giocato le coppe, ha una valutazione molto alta, secondo Transfer Marketer, circa 40 milioni di euro, credo che l'Atalanta non abbia necessità di cedere i giocatori, e credo anche che sia una bottega cara, e comprare dall'Atalanta è sempre un po' particolare, perché un conto è rendere dentro il meccanismo dell'Atalanta, un conto è rendere al di fuori, infatti difficilmente poi i giocatori che escono da Bergamo, dall'Atalanta e dai Gasperini, riescono a replicare al 100% quello che abbiamo fatto vedere in altre piazze, sono sincero, 40 milioni per Scalvini, non li investirei in questo momento, anche se lo ritengo davvero un prospetto molto interessante, ma è una cifra completamente fuori mercato per la Juve, almeno che non si riesca a fare una sorta di ammortamento con qualche giocatore in cambio, un po' come l'operazione che sta portando Frattesi all'Inter dal Sassuolo, vediamo un attimino che cosa succede, però non credo che la Juve abbia la volontà di investire quei soldi su un centrale difensivo, ripeto, a maggior ragione se non esce un giocatore importante. C'è Laporte, ecco, Laporte è un giocatore che secondo me nella testa di Allegri è più adatto, rispetto a tutti quelli che abbiamo visto fino adesso, perché in classe 94 è uno spagnolo, gioca nella Spagna ma ha giocato anche nei nazionali giovanelli francesi perché è nato in Francia, se ben ricordo ha comunque il passaporto francese, è un difensore centrale ai piedi sinistro, ha un'esperienza internazionale elevata, però non è più titolare al Manchester City, ha perso il posto da titolare, ha un contratto in scadenza nel 2025, quello che preoccupa è uno stipendio di 7 milioni di euro. Io non credo che il Manchester City abbia la volontà di dartelo in prestito per un anno, che poi magari l'anno dopo va in scadenza e quindi che cosa fa? Non credo nemmeno che la Juventus abbia la volontà di investire 25 milioni di euro per un giocatore che ha un ingaggio così elevato, credo che sia difficile vedere arrivare uno come Laporte senza la partenza di Bremer, perché un conto è se riesce a monetizzare Bremer, un conto è no. Lo vedrei bene comunque nella difesa 3 al fianco di Bremer e Danilo, secondo me Allegri andrebbe a scegliere lui come giocatore, perché è quello appunto con più esperienza, quello più pronto tra tutti quelli che abbiamo visto, però sinceramente non andrei a scegliere lui, è un giocatore che nell'ultima stagione ha giocato anche davvero pochi minuti, perché è riuscito dalle gerarchie, non penso nemmeno che Laporte sia così felice o voglioso di lasciare la Premier League, la Champions League che ha appena vinto a Call City per arrivare alla Juve che non gioca le coppe, mai dire mai, però mi sembra veramente un nome fuori dal target di cui vi parlavo prima, come i vari Calulu che riesce ad andare a prendere un giocatore, lo vai a valorizzare, invece qua c'è poco da valorizzare, il giocatore è fatto, finito, come quelli che piacciono ad Allegri, come titolari veri e propri, dove inizia a avere pochi dubbi, però non credo che sia l'operazione di mercato che vuol fare la Juve in questo momento. Ecco, questo è un nome che ho tirato fuori io, in Ascio, perché ci abbiamo giocato contro, è un classe 2001, è un portoghese dello Sporting Lisbona, ha esperienza internazionale, perché quest'anno ha giocato sia la Champions che l'Europa League, da titolare, anche contro di noi appunto, all'andata mi aveva impressionato, a Torino ci ha impressionato, mi aveva lasciato un buon ricordo, invece al ritorno, insomma, siccome aveva faticato un pochettino, non l'ho visto così tanto giocare, l'ho visto appunto in quelle due partite lì, però ha un contratto in scadenza del 2026, è ricercato anche dalla Premier League, quindi probabilmente questa è la stagione da andare ad acquistare questo centrale difensivo, che comunque sta iniziando a giocare anche all'interno del Portogallo, ha una valutazione di 30 milioni, che tutto sommato per un giocatore che ha esperienza, che è giovane e che inizia ad essere anche nel giro della nazionale portoghese, non è tantissimo, però non è il mio nome preferito, anche perché, ripeto, l'ho visto troppo poco e non mi ha lasciato chissà quale ricordo, è Pavlovich, perché? È un classe 2001 del Salisburgo, è serbo, quindi ha giocato da centrale sinistro, il Mondiale, insieme a Vlaovic e a Kostic, gioca proprio dietro a Kostic, è un difensore centrale mancino, roccioso, mi pare un metro e novantaquattro, ragazzi, le vibes di Pavlovich, che viene anche paragonato a Vidic, però a me ricorda Giorgio Chiellini, non ci posso fare niente, rude, grezzo, non tantissimo, non come Chiellini, un po' meno grezzo, però quella cattiveria buona che serve all'interno di un buon centrale difensivo, mi sembra proprio quella cattiveria sportiva giusta per fare quel ruolo lì, in stagione ha giocato in Champions, ha giocato in Europa League, anche se poi il ritorno, forse con la Roma addirittura, non l'ha giocato perché era squalificato, ha una valutazione di Transfermark di 25 milioni di euro, ha una scadenza 2027, probabilmente dovessi scegliere tra questo elenco che abbiamo fatto, andrei a prendere lui, sono sincero. Io vi metto questo, Moise, perché? Perché è un classe 2005, è un olandese della Juventus primavera e della Juventus next gen, decisamente troppo forte per gli under 19, infatti nell'ultima stagione ha segnato 10 gol, mi pare 7 o 8, con la primavera e gli altri next gen, tra cui uno in semifinale di Coppa Italia, di Serie C, è un difensore centrale ambidestro, questo fa veramente molto ridere perché non è una cosa così comune da trovare ed è un plus assolutamente, ha appena rinnovato fino al 2027 con i bianconeri e secondo me, sì, lo vedremo spesso nominato in stagione. Poi, ora però, devo farmi una domanda, è logico farmi questa domanda, perché qualcuno mi ha detto, secondo me andrebbe valorizzato Uisen, andrebbe inserito alla prima squadra, per me ci sta, per me ci sta inserirlo in prima squadra, però, sapendo che l'allenatore è Massimiliano Allegri, se oggi vanno da Allegri e gli dicono, in difesa ci serve un uomo, benissimo, non andiamo sul mercato, abbiamo Uisen che è un 2005, che ha giocato al massimo in Serie C, questo sarà il tuo titolare, come la prende Allegri? Io sono convinto che Allegri, come giocatore aggregato alla prima squadra, può anche essere contento, magari lui farà giocare qualche partita, però Allegri non lo considererà un titolare, lo sappiamo come ragiona Allegri, io penso alla gestione di Fagioli di quest'anno, Fagioli è stato un titolare della Juve, però nelle due partite, bene o male chiave, il giocatore con meno esperienza, è stato giù, perché? Perché poi con il Napoli, a Napoli, quando prendiamo quei cinque gol, Fagioli non è titolare, ed è una partita chiave quella, se vogliamo cercare di dare una minima speranza, per entrare in lotta a Scudetto, e all'andata con il Siviglia in Europa League, stesso discorso, Fagioli parte dalla panchina, e sono scelte francamente incomprensibili, per un giocatore che era stato titolare fino a quel momento, quindi Allegri ci guarda tantissimo a queste cose, magari sono giocatori che entrano nelle rotazioni, magari come Fagioli diventano pure titolari, però sotto sotto, nella testa di Allegri, questi giocatori non sono quelli che gli danno garanzie, per intenderci, vi faccio la domanda, se ad Allegri chiedono, preferiresti avere Wisen titolare l'anno prossimo o Laporte? Secondo voi quale sarà la risposta? Non credo Wisen, credo più Laporte, quindi secondo me ci sta aggregarlo, però dobbiamo anche fare i conti con quella che è la realtà, non è una decisione che possiamo fare noi, non è una decisione che possiamo prendere noi, poi non so nemmeno se Wisen sarà pronto per la Serie A, a me piacerebbe vederlo aggregato alla Serie A, non mi piacerebbe vederlo in pianta stabile in prima squadra, vi dico la verità, proprio per un discorso legato alla crescita del ragazzo, preferirei vederlo giocare con continuità in next gen, fatto la primavera, bene, adesso passa alla next gen, e inizia ad essere aggregato alla prima squadra della Juve, e se nel caso ci sarà bisogno, ecco che può diventare il sesto, o magari il settimo, difensore centrale della Rosa da Juventus, perché? Perché come sarà la Rosa da Juventus dei difensori? Me la sto immaginando un pochettino così, ho messo Pavlovich come titolare, quindi immaginiamoci Bremer, centrale della difesa 3, Danilo sul centro-destra, e Pavlovich sul centro-sinistra, difesa abbastanza ermetica mi viene da dire, Kosti, Cewea sono gli esterni della difesa 5, Scesni in porta, e Gatti diventa quel giocatore che inizia ad entrare nelle rotazioni, perché sappiamo bene che Gatti può giocare a destra, al posto di Danilo, quando Danilo gioca a sinistra, oppure eventualmente se non gioca a Danilo, Gatti può giocare Pavlovich a sinistra, quindi Gatti secondo me è un giocatore che va confermato la Juventus, potrebbe non essere più titolare l'anno prossimo, spero che non sia Alexandro, e bene o vale il video nasce da questa idea, e cioè allontanare Alexandro dalla Juventus, o almeno dalla titolarità la Juventus, perché mi sembra francamente incomprensibile iniziare una stagione con Alexandro come titolare, sarebbe veramente troppo, leggevo che è difficile che Alexandro accetti dell'offerta della rabbia, però ci sono degli asterischi, perché la Juventus appunto in rosa Alexandro, Bonucci e Rugani, e dato che sta tornando alla base pure di Vinter, mi stanno a essere un po' troppo, ok, Wiesen lo aggreghiamo, ma principalmente in Under 23 per un discorso di crescita, perché la Juventus prima squadra non troverebbe spazio da titolare, nella testa di Massimiliano Allegri, che andrebbe a preferire altri profili, gli altri due posti, quelli con gli asterischi, sono per chi rimarrà la Juve, perché, ripeto, Bonucci, Rugani e Alexandro, almeno uno se non due, mi piacerebbe cederlo all'interno di questa sessione di mercato, perché inizia ad essere giusto andare a prendere altri profili, e se Gatti è stata una piacevole scoperta, magari non a livello da titolare per la Juve, che ha delle ambizioni come provare davvero a vincere lo Scudetto, magari sì, magari no, d'accordo, però metti che l'idea è Danilo centrodestra, vado a prendere un centrosinistra, che può essere Pavlovich, Pavlovich, Bremer, Danilo, Gatti, De Winter, e che ne so, Rugani, e vado a togliermi gli stipendi da 6 milioni e mezzo l'uno, netti, quindi sono 12-13 lordi, quindi sono 24 milioni di euro lordi circa, 20 milioni di euro lordi circa, per Bonucci e Alexandro, il vento sa piacere a spendere 20 milioni di euro l'anno prossimo, per aver Bonucci e Alexandro in rosa, come quinto o sesto difensore, secondo me no, delle due allora questi soldi che risparmio da questi contratti, qua deve essere bravo giuntoli, e vado a investire appunto sul nome che voglio come titolare sul centrosinistra, se sarà difesa 3, poi magari non sarà difesa 3, magari che ne so, sarà 4-4-2, e allora ecco che Danilo può magari fare il difensore, il terzino, destra, sinistra, non lo so, UEA può giocare a destra, sinistra, lì dopo bisogna capire un po' come metterli giù, e Bremer e Pavlovich possano fare i centrali della difesa 4, anche se tutti e due li abbiamo visti un po' più a loro agio nella difesa 3, però se l'idea è giocare con la difesa 3, come sembra in questo momento in casa Juventus, io credo che questa sia una priorità, cioè utile girarci intorno, questa è una priorità, perché se no rischi di ritrovarti ancora una volta a iniziare la stagione, a dire, oh sai cosa, eh c'è Alessandro, no dai, non esiste, cioè dalle due allora faccio giocare Danilo sul centrosinistra tutta la stagione, e i gatti titolari a destra, però secondo me la Juve ha necessità di acquistare un difensore titolare, forte, e chissà che non possa essere proprio Pavlovich, fatemi sapere altri nomi qui sotto nei commenti, fatemi sapere se erano nomi che conoscevate già, fatemi sapere se secondo voi la Juve ragionerà in questo modo, o se secondo voi invece andrà per tutta un'altra strada.